Buonasera, buonasera a tutti, stiamo registrando, buonasera, benvenuti a questo webinar, datemi soltanto un'informazione in chat se mi sentite bene, così partiamo subito. Ok, vedo che stanno arrivando persone in sala, benissimo, se mi sentite io parto. Sì Paola, si sente bene, grazie. Ok, perfetto. Allora, buonasera, buonasera a tutti, buona primavera a tutti perché abbiamo passato il 21 marzo, eccovi tutti qua a questo appuntamento, abbiamo saltato un mese, se non ricordo male, ma siamo ritornati puntuali, c'erano tanti eventi per le... le novità cosmetica e ASP del... dell'inizio anno e però siamo ritornati al nostro consueto appuntamento con la nostra naturopata Patrizia Barbanti, in particolar modo oggi perché è stato, diciamo, lanciato un nuovo prodotto, diciamo, per l'Italia, un prodotto che è già conosciuto da diversi anni in Malesia, si tratta di un fungo che si chiama Agaricus Blasemuril, ha tantissime proprietà questo fungo e ovviamente anche questa sera ci aiuta a presentarlo la nostra Patrizia Barbanti, per cui Patrizia buonasera, benvenuta, grazie. Buonasera a tutti, ciao Paola, grazie. Grazie sempre del tuo supporto e della tua collaborazione e mi raccomando, aprite bene le orecchie, prendete gli appunti, sapete comunque che questo webinar, come tutti i webinar, è registrato per tutti. la nostra formazione continua di DXN e per tenere registrazione nel canale YouTube della DXN. Ecco il nostro Agaricus, Patrizia lascio la parola a te e partiamo con la prima slide, vediamo di cosa si tratta. Perfetto. Sta girando, sta arrivando. Cliccare ho cliccato, adesso vediamo se gira. Grazie. Eccolo qua, forse è un po' troppo veloce. Va bene, va bene, scopriamolo insieme un pochino questo funghino qua. Allora, questo fungo, a differenza di tutti gli altri funghi che abbiamo sempre visto, non ha un grande passato esotico della medicina cinese con tante belle favolette. Perché? Perché è un fungo molto... È un fungo però di discendenza giapponese che girando per la regione vicino a San Paolo, nella foresta atlantica che si chiama Piedate, trova questo fungo. Trova questo fungo e lo invia in Giappone all'Istituto di ricerca micologica presso Iwade e qui cerca di capire che cos'è. In realtà, a livello storico, noi troviamo l'utilizzo di questi funghi medicinali della categoria Agaricus, perché Agaricus è una categoria, non è il nome del fungo, come quando parliamo di Ganoderma. Ma Agaricus è come dire le ombrellifere, le composite, quindi è un po' una famiglia che contiene tantissimi tipi di funghi e sono i prataioli. Per intenderci, lo champignon è un Agaricus, ok? Fa parte di questa famiglia. Questi funghi, già i bizantini nel IV secolo d.C. o nel Medioevo, nel XV secolo, c'è su dei testi storici l'utilizzo di questi funghi per combattere le ulcere della laringe. Questo è l'unico cenno storico che noi abbiamo, perché quando nel 1965 fu inviato questo fungo in Giappone, si incominciò a studiarlo e ci misero ben dieci anni per riuscire a riprodurlo, quindi veramente tantissimo. Ma contemporaneamente il dottor Cinden dell'Università della Pensilvania incominciò a studiare la popolazione di questa zona e si accorse che aveva una longevità incredibile rispetto agli abitanti della zona più vasta. Perché? Perché questo fungo cresce solo lì, in modo naturale, non cresce in tutte le parti del mondo. È molto difficile da riprodurre ed è molto difficile anche da ritrovarlo in giro per il mondo. Quindi dopo aver presentato negli anni 70 varie conferenze parlando di questo fungo brasiliano medicinale, si cominciò a diffondere velocemente anche il nome di questo fungo. Lo battezzarono Agaricus Blasei Murilla perché in realtà il dottor Murilla, che era un micologo americano, già lo scoprì nel 1945, per cui gli diedero questo nome a ricordo di questo medico. Ma studi recenti ci dicono anche che questo fungo è lo stesso di quello che viene chiamato Agaricus Brasiliensis, cioè un agarico che cresce e nasce in Brasile, oppure Agaricus Subrefecens. Quindi è un fungo abbastanza importante. Vedete qui l'immagine, l'immagine ha questa cappella, ma è il classico prataiolo, questa cappella marrone. La cosa che si presenta molto particolare è che le linee sotto il fungo rimangono rosa o marroncine per molto tempo e molto fresco. È un fungo molto carnoso e il corpo fruttifero è anche molto buono da mangiare. Paola, mi senti? Sì, sì, ti sento benissimo. Ok, perché sei frizzata? Io ti vedo frizzata. Ah, ok, no, no, io ti vedo bene. Ok, scusami. Quindi, nella tradizione, come dicevamo prima, non ci sono grosse informazioni, ma sicuramente in Giappone gli è stato dato un nome molto particolare, Imema Tsutake. Mentre gli originari abitanti delle pleiade di questa zona, quindi questa zona di Brasile, lo chiamano come fungo di Dio, fungo del sole, fungo della principessa o fungo della vita. Ecco perché ci svela un po' anche che questo fungo è un fungo legato anche alla longevità. Sono dei funghi, i prataioli commestibili, chi è che non mangia gli champignoni, in un'insolata, in una zuppa o nelle salse. Quindi, come sappiamo, veniva utilizzato nel cibo normale di tutti i giorni. Per costruire essere, diciamo così, a dare benefici sulla longevità, nella tradizione popolare veniva utilizzato anche per combattere lo stress emozionale, stimolare il sistema immunitario e migliorare la qualità della vita. Perché? Perché abbassava la glicemia e controllava il profilo lipidico. Negli ultimi dieci anni è stato coltivato come novel food, quindi come nuovo cibo, sia in Giappone che in Corea, che in Cina, che in Taiwan. Ma la cosa importantissima è che è un fungo che dà un benessere personale psicofisico, molto importante. Perché? Perché contiene tantissimi beta-glucani. Sicuramente cresce in zone molto particolari perché richiede una temperatura altissima. La temperatura media della zona delle piedate è tra i 22 e i 35 gradi, ma ha l'80% di umidità. Quindi, come vedete, è una temperatura molto, molto alta e molto, molto umida. È un fungo particolare perché tende a trattenere moltissimo i metalli pesanti e per cui questa particolarità deve metterci un po' in allerta perché bisogna sempre sapere che arrivi da coltivazioni biologiche, da coltivazioni sicure. Perché contiene dei metalli vericolosi come il carmio e l'arsenico, ok? Quindi è molto importante. Molto importante questa cosa, insomma, la ribadiamo ed XN si distingue per questo tipo di coltivazione. Cosa contiene? Vedete che contiene tantissime proteine, il 38% sono proteine, ci sono dei grassi, ma ci sono dei grassi buoni perché l'acido linoleico mantiene normali i livelli di colesterolo. L'oleico e l'ostearico ci aiutano a controllare e abbassare il colesterolo cattivo, contiene i carboidrati, contiene il 12,4% di beta-glucani, quindi è il fungo che contiene più beta-glucani in assoluto, quindi importantissimo da questo punto di vista. Ha delle fibre, ma contiene anche dei minerali, quindi sodio, calcio, ferro, potassio, fosforo, magnesio, zinco, rame, manganese e selenio, importantissimi. Contiene tutte le vitamine del gruppo B e queste tutte, le maggior parte, la B1 che ci aiuta nei processi metabolici, la B2 che va a lavorare sui meccanismi antiossidanti, la B6 che ci aiuta nella produzione di serotonina, la B12 che aiuta il metabolismo e la produzione di globuli rossi ma anche del midollo spinale. Poi abbiamo la niacina che è la B3 che è un antiossidante importantissimo, l'acido pantoteico che è la B5 che anche questo regola il metabolismo dei grassi e degli zuccheri, l'acido folico, questo lo sappiamo anche tu, l'acido folico e la B9 ed è importantissimo durante la gravidanza perché aiuta veramente a evitare i difetti neurologici del tumore neuronale del feto, quindi importantissimo. E poi la biotina o la B7 che è la stessa cosa che anche questa aiuta a controllare la glicemia ma soprattutto ci aiuta nelle condizioni, nelle funzioni cognitive e nello sviluppo del feto. Quindi come vedete ha tutto il gruppo delle vitamine B importantissime per la nostra salute. La vitamina D è un fungo ricco di ergosterolo, l'ergosterolo è il precursore della vitamina D e sicuramente nel corpo fruttifero che cresce al sole, ma i prataioli crescono nei prati quindi devono essere al sole perché crescono tra l'erba, nel corpo fruttifero contiene anche la vitamina D, scusate, non lo troviamo nel micelio perché viene prodotto senza sole. Il corpo fruttifero inoltre contiene tantissimi esistimi che rimangono presenti anche dopo l'essiccazione del funghi stesso. Ok, quindi è molto 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 interessante come fungo. Che cosa contiene? Qua è sottolineato i betaglucani perché abbiamo detto che la maggior concentrazione di betaglucani nei funghi in generale c'era magari plus. Esatto, e perché i betaglucani sono importanti? Perché sono potenti immunostimolanti e mi aiutano sicuramente a combattere e avere una reazione più veloce su quelli che sono virus, batteri, ma anche alcuni problemi di funghi come la candida quindi è importantissimo. I terpeni che danno un aroma piacevole, questo fungo ha un aroma di mandorla, assomiglia al gusto di mandorla per cui è anche molto molto piacevole da mangiare ma è anche proprietà antifiammatorie e antibiotiche. Il citocromo B45 che ci aiuta a disintossicare il fegato. Gli enzimi digestivi, ecco, contiene tantissimi enzimi per cui sono molto molto importanti questi enzimi perché ci aiutano a migliorare quella che è la nostra digestione ma aiutano anche la funzionalità intestinale. Avete visto che contiene una bella quantità di fibre e anche questo è importante per la funzionalità intestinale. Gli antiossidanti ci prevengono dai danni dei radicali liberi, sicuramente la pelle ma tutti i tessuti del nostro corpo e la tirosinasi che è un enzima che riduce l'effetto di melatonina ma è importantissimo anche a livello di mediatori cerebrali. Quindi, come vedete, è un fungo veramente molto molto interessante per potenziare tantissimo la risposta anche quando non siamo proprio al top, ecco, diciamo così. Certo. Ok, vediamo adesso come agisce questo fungo. Diciamo che questa slide, allora oggi avrete già ricevuto, immagino, un po' di informazioni dal servizio, diciamo, WhatsApp della DXN per la presentazione di questo fungo. Quello che vedete in questa immagine è quello che, diciamo, è stato, diciamo, messo in circolazione dalla DXN come scheda del prodotto e dove sono, diciamo, raccolte i principali aiuti della Garipus al nostro organismo. Esatto, adesso li guardiamo un attimino in dettaglio. Tu li vedi, Patrizia? Sì, sì, andiamo al prossimo che andiamo a vederli in dettaglio. Ok, quindi questa ce l'abbiamo tutti, questa è interessante, questa... Ok, abbiamo fatto uno schema che ci dà colpo d'occhio un po' su che cosa funziona questo fungo. Non fatti vi spaventare dalle parole, non fatti vi spaventare da quello che c'è scritto, è interessante perché è un fungo immunomodulante, ma voi mi direte, ma sono tutti immunomodulanti? Sì, grazie, cavolo, contengono beta-glucani e quindi è la particolarità dell'amicoterapia questa, ok? Però poi andremo a vedere dove lavora. Antidismetabolica, cosa vuol dire? Che lavora su tutti i problemi di metabolismo. Classico, età della menopausa, quando c'è l'età della menopausa, il metabolismo ha degli scossoni, quindi anche questo può essere... vi do delle idee. Ipoglicemizzante, abbassa la glicemia. Cardioprotettiva, perché abbassa la produzione del colesterolo cattivo. Antinfiammatoria e antiossidante, mi lavora su tutte le malattie degenerative, quindi è importante anche questo, ma anche sulle allergie, per esempio, che è una malattia, una problematica, come abbiamo visto più volte, ci siamo dette più volte, di una reattività eccessiva del nostro sistema immunitario. È un coadiuvante antitumorale. Ecco, questo essendo un fungo molto recente, diciamo che gli studi maggiori sono stati fatti in campo oncologico. Quindi dagli anni Ottanta è diventato un fungo molto molto interessante, molto molto studiato, soprattutto a questo livello. Perché? Perché ci si è accorti sostanzialmente che era un vero e proprio fungo che dava grandi opportunità di studi sull'attività antitumorale. E quindi si sono fatti varie convention e vari studi. Lo vedremo, sono ancora in corso, non ci sono ancora dei risultati effettivi. Perché? Perché sono studi che durano anni prima di passare come veri e propri importanti risorse. Ma sembrerebbe che alcune sostanze contenute in questo fungo possano essere utilizzate anche nelle cure oncologiche. Quindi coadiuvante antitumorale, poi vedremo cosa. Ed è un ottimo epatoprotettore. Sul sistema immunitario come lavora? Allora, adesso li guardiamo uno per uno. Sistema immunitario. Allora, difesa delle infezioni. I componenti dell'agaricus, tra cui soprattutto i beta-glucani, attivano tutte quelle cellule immunitarie che conosciamo, quindi maccofagi, cellule natural killer, le cellule dendritiche, che hanno il compito di neutralizzare gli agenti patogeni che entrano nel corpo come i virus e i batteri. Ma è molto efficace sia a livello di cura che a livello di prevenzione anche nella cura di malattie da virus, batteri e candidosi. Questo sembrerebbe far sì che rendeva bimbi e anziani nella zona proprio dove si è studiato invulnerabili contro l'influenza. Perché? Perché ha un effetto quasi antivirale e antibiotico. Per cui molto interessante. Sicuramente lavora molto bene anche sulle malattie allergiche e le malattie autoimmunitarie. Perché? Perché nelle malattie allergiche rimette in salute tutto il sistema immunitario alterato. Quindi evita quelli che ci siano gli sfoghi eccessivi con l'aumento delle IGE e degli anticorpi patologici che sono responsabili delle malattie allergiche. Ma aiuta, è molto efficace soprattutto nelle riniti allergiche. Se vi ricordate ne avevamo già parlato di riniti allergiche legate anche a un altro prodotto. Però questo fungo è particolarmente... ma soprattutto all'allergia al nickel. Che uno magari dice allergia al nickel, ma che cos'è? Ma l'allergia al nickel o un problema con il nickel ci crea tantissimi problemi a livello di intolleranze alimentari. Perché crea quelle che vengono chiamate le allergie crociate con gli alimenti. Quindi è importantissima questa cosa perché le allergie al nickel sono molto molto diffuse. Molto di più di quello che uno potrebbe pensare perché non è una cosa che si manifesta solo sui nickel. Ok? Quindi è importante. Ma perché è contenuto anche in tantissimi cibi comunque il nickel. Per cui essere allergico al nickel, il pomodoro per esempio ne contiene tanto, no? Giusto Patrizia? Sì, ma non è detto che quando si crea un'allergia primaria tipo al nickel non è detto che tutti gli alimenti che contengono al nickel la persona non li può più mangiare perché è allergica. perché crea quelle che si chiamano cosiddetti incroci solo su parziali alimenti. Cioè uno deve essere proprio sfortunato ad averli tutti. Di solito sono pochi alimenti. Io per esempio che sono stata un'allergica ho scoperto di essere stata allergica un'allergica pesante al nickel ma io mi sono accorta perché io per esempio sono allergica alle cipolle. Ok? Quindi le cipolle è uno di quegli alimenti che si crea un crociato col nickel anche il cioccolato per esempio anche gli asparagi ma io questo qui non ho problemi. Quindi non è detto che se uno è allergico al nickel allora vado a vedere le crociate con il nickel sono allergico a tu. No! Posso essere intollerante ad alcune cose solo se supero il livello di guardia oppure non poterle mangiare per niente. Quindi ogni persona va considerata a sé. aiuta anche nelle malattie autoimmuni perché riduce la produzione di autoanticorpi che sono quelli responsabili delle malattie autoimmuni. Quali sono? Tipo la tiroidite di Hashimoto l'artrite reumatoide il diabete di tipo 1 ce ne sono anche più gravi però diciamo queste che sono in generale quindi è molto molto importante ha sicuramente un'azione immunomodulante quindi agisce sia sulle cellule del sistema specifico a specifico innato cioè quelle che funzionano sempre ma funziona anche sul sistema immunitario specifico quindi questo ci potenzia tantissimo il sistema immunitario. Benissimo. Scusa Paola non ti ho sentito. No no ho detto benissimo ma io non so se mi vedi perché io non mi vedo. No sei frizzata sei bloccata. Ok vabbè fai niente l'importante sono le slide. Ok le slide ci sono. Allora dismetabolico allora tutte le problematiche metaboliche tra cui abbiamo il sovrappeso ma abbiamo anche il diabete è ottimo contro il sovrappeso perché perché stimola l'adiponecina che è un ormone contenuto nel tessuto adiposo che ci aiuta a bruciare i grassi accumulati chiaramente se brucio i grassi favorisco la perdita di peso ma cos'è anche che mi fa diminuire il peso è che questo fungo è ottimo per controllare la glicemia quindi non mi fa entrare in quella che è un problema di insulino resistenza riducendo l'insulino resistenza e abbassando anche la glicata mi aiuta a ridurre anche l'appetito quindi ecco perché viene considerato anche un fungo che mi aiuta a perdere peso è sicuramente utile nel diabete e ci sono degli studi su pazienti diabetici che hanno ridotto l'emoglobina l'emoglobina glicata se assumevano questo tipo di fungo quindi chi ha questo problema mi raccomando controllate bene parlate anche col diabetologo perché se si abbassa troppo potrebbe essere un problema migliora la salute delle ossa perché perché lavora sul metabolismo e quindi riduce anche quelli che possono essere problemi di osteoporosi ma aiuta anche a controllare tutti i livelli di colesterolo cattivo facendo questo che cosa succede? che migliora tutta le problematiche cardiovascolari riducendo l'obesità riducendo il colesterolo cattivo controllando l'insulina la glicemia abbiamo anche un abbattimento di quelle che sono le problematiche cardiovascolari ok? ok molto bene altra proprietà antiinflamatorio e antiossidante perfetto abbiamo visto prima che lavorando quando abbiamo parlato del sistema immunitario ci aiuta nelle allergie e nelle malattie autoimmuni aiuta a combattere tutte le allergie di questo tipo principale la rinite e il michel ve lo ricordo ma sono noti anche tutti diciamo così i benefici che ha la garicusta sull'intestino perché? perché è ricco di enzimi e quindi favorisce il processo digestivo come dicevamo poc'anzi e anche il transito grazie alle fibre riequilibra le difese delle malattie autoimmuni come dicevamo prima perché riduce proprio quelli che sono i processi di autoproduzione e protegge da tutto quello che sono chiaramente le problematiche degenerative croniche perché? perché le problematiche degenerative croniche partono da un'infiammazione abbiamo fatto qualche tempo fa un webinar sulle infiammazioni e le infiammazioni croniche mi creano tutta una pletora di problematiche che poi generano in malattie la più semplice è l'artrosi ok? poi man mano andiamo a salire ok? ma la cosa più importante di questo fungo è che è un forte antiossidante come vedete io dalla slide qua dove c'è questa immagine un po' strana le radiazioni ma secondo me questa immagine è molto bella no? perché molto semplicemente si parla di radicali liberi così un po' magari impropriamente senza sapere esattamente cosa sono nella realtà in queste immagini noi vediamo da dove arriva l'aumento dei radicali liberi e che cosa porta poi il fatto di avere troppi radicali liberi no? e quindi è veramente importantissima cioè con queste immagini è un'immagine un po' strana dico io perché sembra quasi uno scherzo no? con queste faccine un po' buffe ma in realtà ci dice che dei bambini sembra no? esatto un po' dei bimbi no? però i radicali liberi non li troviamo ovunque partendo dall'inquinamento ma anche da tutto quello che ci circonda quindi se noi fumiamo se siamo stressati se beviamo alcolici se non ci alimentiamo correttamente è chiaro il raggio V chiaro uno dice ma sono sempre le stesse cose sì ma questo aumentano i radicali liberi è importante perché un eccesso di radicali liberi e un eccesso di infiammazione mi portano a tutte queste complicazioni che voi vedete scritte in rosso quindi perché è importante questo fungo? perché questo fungo aiuta oltre a proteggerci da queste problematiche ma è un eccellente alleato nella salute dei nostri tessuti previene anche le rughe ma perché? perché i radicali liberi vanno ad attaccare il collagene il collagene se sentite anche le pubblicità in televisione vi dicono questa crema riproduce il collagene quindi combatte le rughe perché è un'impalcatura del tessuto della pelle quindi è importantissimo mantenerlo sano e questo fungo ci aiuta tantissimo e quindi avremo una pelle se volete anche più bella più luminosa tra le altre cose abbiamo visto che aiuta a regolare la produzione di melatonina quindi evitiamo anche le macchie scure che vengono con il passare delle primavere diciamo così molto gentilmente sì ok ma ci aiuta anche a prevenire quelli che sono i problemi del sole quindi scottature o eritemi quindi vedete quante cose fa e tra le altre cose ci aiuta soprattutto anche in tutte quelle problematiche legate alla pelle che le vedete scritte qui come l'acne le dermatiti gli ezeni ma anche le dermatiti allergiche proprio perché lavorando contro lavorando bene come antinfiammatorio ci evita gli eccessi di quelle che sono le reazioni allergiche anche a livello cutaneo benissimo quindi secondo me lo potremmo anche inserire come diciannovesimo prodotto della nostra linea cosmetica perché è vero curare la pelle però anche dall'interno giusto e quindi è importantissimo e questo è un modo per curare la nostra pelle aiutarla cioè dall'interno giusto perché la pelle è uno specchio se curiamo solo l'esterno non curiamo l'interno prima o poi ti vede il risultato ok bene però abbiamo detto importantissimo l'effetto depurativo e di patoprotettivo è un ottimo è un ottimo rimedio è di grande aiuto per il nostro fegato soprattutto quando è intossicato quindi è un depurativo del fegato ok uno degli organi amuntori principali scusami torno un attimo indietro grazie quindi ci aiuta a detossinare il fegato è proprio un ottimo detossinante soprattutto quando il fegato è intossicato da farmaci o da sostanze che ci hanno veramente reso il fegato magari anche un po' grasso un po' steatoso ingrossato e quando abbiamo eccessive transaminasi uno degli studi importantissimo che è stato fatto su questo fungo per esempio sono i risultati sui casi di epatite soprattutto epatite B perché sembrerebbe che questo fungo aiuti a mantenere stabili le transaminasi quindi evitare che si alzino quando le transaminasi si alzano il nostro fegato ci sono dei pezzi di fegato che non funzionano più quindi è molto importante perché potrebbero dare grossi problemi anche in futuro con malattie anche cancerogene ok è un epatoproduttore a 360 gradi in grado di proteggere e favorire tutta la salute del fegato prevenendo e riducendo tutti i danni epatici condizionati da vari fattori ok non solamente di vita ma anche da farmaci per esempio ci sono dei farmaci che ci salvano la vita ma che nello stesso tempo ci intossicano un po' tanto il fegato quindi questo ci aiuta a migliorare l'aspetto del nostro fegato grazie a questo discorso in Giappone viene utilizzato proprio come prevenzione antitumorale e delle malattie in genere e stanno facendo degli studi interessantissimi su questa cosa giriamo la slide per favore grazie studi veramente interessantissimi gli studi sono partiti negli anni 80 sono ancora in corso come dicevamo prima ma ci aiutano tantissimo nella prevenzione nelle cure oncologiche perché nelle cure oncologiche perché si è visto che proprio grazie al fatto che depura il fegato e lo detossina mi evita quelle che sono i problemi delle transaminasi alte che possono essere causate dalle cure oncologiche come la chemioterapia o la radioterapia gli studi che si stanno facendo e sono ancora molto molto diciamo in corso d'opera ok li stanno facendo a 360 gradi su quasi tutti i cancri più importanti sembrerebbe che questo fungo sia in grado anche di ridare un po' di spazio alla creazione degli ormoni degli estrogeni ecco quando si parla di questa cosa è molto importante perché perché alcuni cancri sono ormoni dipendenti quindi in questo caso prima di assumerlo è assolutamente obbligatorio parlare col proprio oncologo ve lo ripeto magari è una cosa che dico inutilmente ma io preferisco sottolinearla è sempre meglio sottolinearlo sempre questa cosa quindi magari vi sarà venuta questa domanda in mente che Patrizia ha già risposto quindi è importante assolutamente coinvolgere l'oncologo esatto quindi come fungo che cosa diciamo che fa oltre a tutte queste belle cose molto ancora in fase di studio perché è molto giovane ci aiuta ad allungare la vita rallentando il processo di invecchiamento grazie al fatto che un antiinfiammatorio è un anti radicale libero grazie all'attuazione antiossidante in questo caso e incrementa però anche la produzione di neurotrasmettitori la dopamina e la adrenalina che agiscono sia sull'energia fisica che quella mentale e grazie a questa cosa può essere molto utile come fungo anche quando c'è un surplus di sport o un lavoro intenso o periodi di convalescenza soprattutto se abbiamo un periodo di convalescenza post problematiche gravi in cui ho assunto tanti farmaci perché abbiamo visto che depura bene il nostro fegato è sicuramente l'aumento di dopamina e di noradrenalina mi riduce anche tutti i sintomi depressivi migliorando anche quello che è l'ormone e quindi può lavorare anche molto bene quando abbiamo un inizio di quelle che sono le malattie neurodegenerative insieme magari a volte la scarsa vitalità dovuta anche alla dalla depressione insomma esatto magari si può abbinare anche al nostro ericium in questo caso ok ecco l'abbinamento ai tetto si può abbinare magari volevamo ricordare il fatto che in DXN abbiamo tanti funghi ormai e a volte in tante persone viene un po' un dubbio su quale devo prendere quale non devo prendere parlavamo prima nel pre webinar che diciamo il nostro resce è sicuramente la base diciamo un po' un po' di tutto e poi gli altri funghi che abbiamo visto insieme a te e quello di oggi insomma la gare forse abbiamo visto le sue caratteristiche sono più specifici e più mirati a determinate situazioni per cui non dobbiamo per forza prendere tutti insieme però sappiamo che comunque il nostro organo derma è la base e gli altri funghi sono dei funghi più specifici che abbiamo visto nelle varie webinar a cosa servono esatto ecco una cosa che è interessante è che ci sono ormai degli studi pubblicati anche su dei siti magari non italiani però internazionali dove per esempio in una clinica americana si sono che si dedica solo a pazienti oncologici si sono fatti degli studi e si sono pubblicate delle cose sia per i pazienti che per i professionisti della salute su questo fungo e quindi si è visto che è molto interessante perché potrebbe essere d'aiuto su tutti i trattamenti di cancro perché migliora la qualità della vita quindi non è detto cioè non è la soluzione non è la bacchetta magica ma ci migliora la qualità della vita ed è importantissimo quando una persona ha una problematica di salute avere una qualità della vita buona perché può affrontare anche meglio le difficoltà nell'epatite croniche è stato utilizzato e ha degli ottimi risultati nel diabete proprio perché come abbiamo visto ha degli effetti antidiabetici sul colesterolo alto perché riduce i livelli di colesterolo quindi come vedete è veramente interessante e come usi viene consigliato diciamo così per gli addetti ai lavori anche in caso di arteriosclerosi in caso di colesterolo epatite diabete quindi come vedete fa delle cose ed è stato anche dimostrato che ha veramente degli effetti benefici sul corpo ma ripeto non è la bacchetta magica non è la soluzione a tutti i mali è un ottimo coadiuvante che ci migliora la qualità della vita la qualità della vita è una cosa fondamentale per tutti noi quindi prendiamolo proprio così sappiamo che per esempio come dicevo prima ha un'attività estrogenica ma non stimola la crescita dei cancri ormone dipendenti come per esempio quello del seno ok quello del seno è estrogenico quando è ormone dipendente per cui aiuta veramente in tanti casi nelle ci sono stati studi anche un pochino più diciamo così più specifici sulle leucemie qui non ci sono stati dei grossi risultati ma i pazienti che lo assumevano avevano una qualità di vita migliore quindi non ha migliorato diciamo così l'aspetto del cancro in sé ma migliorando la qualità di vita dei pazienti quindi è sicuramente un buon effetto perché perché anche questo mi dà una reazione alle cure oncologiche che sto facendo migliore e quindi riesco ad affrontare meglio qualsiasi cosa quindi ecco una cosa importantissima che il citocromo P450 aiuta veramente a ridurre quello che può essere la concentrazione intracellulare nel fegato di dei farmaci che si sono depositati lì quindi mi depura ecco perché dicevamo che è un ostimo detossinante sui farmaci perché mi va a ripulire bene il fegas in profondità ok Paola Paola ci sei? no non ti sento più ok controindicazioni ok adesso sì non ti sentivo non riuscivo a far girare le slide ti ho perso ti ho perso un po' ok adesso siamo arrivati anche le controindicazioni speriamo mi hanno sentito scrivetelo in chat se avete sentito tutto ecco perché io ti ho perso per un minuto forse però vedo che non scrivono niente in chat quindi o ti hanno sentito ok controindicazioni grossi controindicazioni questo fungo non ne ha bisogna solo stare attenti se lo si usa a livello se ci sono delle terapie in corso a parlare con gli oncologi come dicevamo prima se è un cancro ormone dipendente a vedere di stare attenti quando c'è quando si assumono farmaci immunosoppressivi perché magari c'è stato un trapianto di pelle un trapianto d'organo quindi bisogna stare molto attenti e parlarne sempre e sicuramente non va assunto se si è allergico ai funghi come sempre magari è bene fare delle sospensioni ogni tanto cioè non prenderlo 365 giorni all'anno perché è un fungo che può accumulare in sé tanti tanti metalli pesanti ok quindi queste sono le controindicazioni di massima che sono diciamo un po' più dei consigli che normalmente insomma se seguiamo sempre anche la podologia che è presente nelle confezioni non esageriamo sicuramente è utile il nuovo arrivato in DXN che cos'è il nuovo arrivato in DXN è questo nostro agaricos della Zemuril abbiamo visto la presentazione e i volantini di presentazione quindi potete utilizzarli per le vostre informazioni il dosaggio consigliato è la prima settimana una capsula al giorno anche per capire un attimino se potre se può possiamo avere delle caratteristiche di intolleranza a questo fungo e poi della seconda settimana dalle due alle tre capsule al giorno è disponibile in confezioni sia da 30 che da 90 capsule ed è già nel carrello disponibile per gli acquisti già da domani insomma già da oggi ritorniamo qua e ricordiamo appunto che ha oltre il 50% di polisaccaridi proteine e fibre e questo ha voluto sottolinearlo la DXN vi consiglio insomma di provarlo di utilizzarlo di rivedere magari questa presentazione se volete soffermarvi su qualche aspetto in particolare avete visto che può essere sicuramente un alleato per molte insomma e non soltanto come diceva Patrizia non soltanto per la diciamo prevenzione ma in alcuni casi anche come cura per cui ha delle caratteristiche particolari io Patrizia ti ringrazio perché sei stata sempre chiara come al solito vi ringrazio tutti i partecipanti vi ricordo che il 31 marzo scade diciamo i primi tre mesi con il raddoppio dei punti anche per la per il programma ASP quindi siamo qua abbiamo ancora una settimana approfittatene perché potete acquistare anche questo prodotto presentare anche questo prodotto ai vostri clienti come un plus aggiuntivo della della Dxl Patrizia io ti vedo frizzata però magari la voce c'è ancora tu mi senti c'è ancora ho visto che ho visto tra le domande e risposte che non era attiva la chat se avesse qualche problema ho qualche domanda da fare scrivete la Elie Rosa che poi me la gira non ci sono problemi grazie Paola grazie a tutti per l'attenzione buona serata e a presto buona serata a tutti buona sera grazie Patrizia alla prossima alla prossima grazie a tutti